Musica Hai posto l'attenzione sul fatto che comunque il paese, il paese che in questo momento sta reagendo, è fatto da diversi attori e una fetta importante è rappresentata dalla realtà industriale. Allora io ti chiedo, cosa chiede secondo te appunto il sistema produttivo, l'APA? Sicuramente un'APA più moderna, evidentemente. Prego, ti lascio un po' più di minuti questa volta per fare un ragionamento più compiuto, poi andiamo al terzo giro. Prego Andrea. Va bene, sì. Io mi permetto di fare una considerazione, prima di rispondere evidentemente alla tua domanda, una considerazione un pochino più di contesto, di contestualizzazione anche storica, perché non voglio essere negativo ma realistico ed importante quindi che fondiamo le cose che ci diciamo adesso in una prospettiva anche un pochino storica di quello che è successo negli ultimi anni, perché per carità siamo tutti molto contenti finalmente che il digitale sia il centro dell'attenzione a livello politico, della sfera mediatica, eccetera, eccetera. Ma chi lavora in questo ambito da tanti anni, in tante di queste cose, le dice da molto tempo. Allora volevo rispondere alla tua domanda radicandola un po' in alcuni numeri. Mi sono permesso di prendere solo due slide, due slide che fanno vedere come le cose che ci diciamo adesso, i messaggi che adesso tutti noi ci mettiamo in bocca dell'importanza strategica, del digitale, per il rilancio di questo paese, sono gli stessi messaggi che in tanti, io come tanti, hanno sottolineato negli ultimi vent'anni abbondanti, negli ultimi vent'anni abbondanti, ma fortunatamente ci siamo sentiti molto donkey shot rispetto sia una sfera politica di scarsissima sensibilità culturale su questi aspetti, devo dire anche però una sfera imprenditoriale, una sfera di imprenditori, vertici della pubblica amministrazione e vertici delle imprese. Perché dico questo? Perché se facciamo vedere un attimo la prima chart, dobbiamo ricordarci, adesso so che ci fa male vedere questi numeri, ma dobbiamo ricordarci qual è la nostra situazione. Siamo il paese europeo che è riuscito a distruggere completamente la produttività. Questo è un grafico, anche se non lo commento nei dettagli, ma solo ne vedete il trend. Abbiamo l'andamento negli ultimi dieci anni della nostra produttività. Ormai è chiaro, qualunque economista, la produttività è legata alla capacità in primis di lavorare sul digitale, sull'innovazione, la trasformazione digitale. Facendo 100, il numero indice del 2010, guardando che è successo in questi dieci anni, abbiamo perso punti percentuali enormi in mani. Ed è di oggi la notizia del Sole 24 Ore che anche la rilevazione dell'Istat nel 2019 ci dice che abbiamo perso un pezzo di produttività. Ma questi sono numeri sotto gli occhi di tutti. Non ci voleva il Covid, non ci voleva la pandemia per ragionare su questi numeri. Allora ci si chiede perché ci siamo mossi così in ritardo. La risposta è chiaro che invece c'è, è una risposta di natura culturale. Detti in altra maniera, nessuno se la filava di pezzo questa trasformazione digitale. O meglio, qualcuno si faceva finta di occuparsene, ma poi guarda caso non riusciva mai a entrare realmente nelle priorità vere delle agende politiche, nelle priorità vere delle imprese. L'altra chart dimostra la stessa identica cosa. Anche qui, l'avevo già fatta vedere l'anno scorso di fronte appunto al Premier Conte come anche questi dati, gli economisti, li fanno girare in tutto il mondo da tempo. Noi in particolare in Italia da tanto tempo abbiamo sull'asse orizzontale questo indice di maturità digitale dei paesi EU28 e invece sull'asse verticale abbiamo il PIL pro capite. E anche qui una bella analisi di reglazione statistica ci dice con una correlazione fortissima, lo 0,67 è una correlazione fortissima, ci dice che è chiaro come la maturità digitale di un paese sia fortemente correlata al suo PIL pro capite. E noi in questi decenni, in realtà ormai più di 15 anni, abbiamo perso parecchi punti percentuali ancora una volta rispetto alla media dei paesi europei e non parliamo dei paesi più avanzati. Allora, da questa base storica, adesso invece utilizzo la seconda metà per costruire in chiave positiva, quindi possiamo anche togliere le chart, grazie Michela. Da questa base storica, adesso rispondo, provo a rispondere alla tua domanda, è sicuramente in chiave positiva. Quindi, e va bene, questi numeri erano sotto gli occhi di tutti, da 15 anni, praticamente dal 2008, che adesso ho fatto l'analisi solo al 2010, ma possiamo andare da Lehman Brothers in avanti, dal 2008 che ci sono, quindi quasi 15 anni, sono sotto gli occhi di tutti, l'Italia sta, e molti dei fenomeni negativi su questi indicatori, ci mettiamo anche l'occupazione, che non ho avuto a farvi vedere, sono legati proprio a questa incapacità di utilizzare l'innovazione, in particolare l'innovazione digitale. Va bene, guardiamo il futuro. Adesso finalmente l'abbiamo capito, ripeto, ci è voluta una pandemia, l'abbiamo già detto, forse è l'unica eredità realmente politica che questa tristissima e complicatissima situazione ci lascerà, e ci siamo già detti che sarà l'impegno morale di tutti noi nei nostri ruoli a non, almeno adesso, non perderla, non perderla. Adesso che c'è stato questo elettroshock culturale, per cui ripeto, anche coloro i quali erano i più sordi di fronte alle urla di dolore degli anni scorsi, adesso che appunto questo elettroshock ha agito un po' su tutti, bene, si creano le condizioni giuste per poter giocare la partita, e oltretutto ci sono anche le condizioni giuste finanziarie, perché appunto Next Generation Europe, Recovery Fund, mette come pilla di riferimento il digitale, e quindi se siamo capaci ad utilizzare bene questi soldi, abbiamo anche la componente finanziaria, che evidentemente è molto molto rilevante. Arrivo al tema dell'impresa. Allora, il tema dell'impresa lo affronto su due livelli differenti. Il primo è un livello di natura politica. Benvengano misure intelligenti, smart, comunque a livello politico, che agevolano l'innovazione digitale nell'impresa, soprattutto in quelle piccole e medie, perché, l'ho già detto, questo gap culturale, questa insensibilità sulla trasformazione digitale, non vale solo per i politici e per le pubbliche di stazione, vale, come in Italia, anche per tante imprese, soprattutto quelle di dimensione minore. Allora, anche per loro l'azione Letro Shop c'è stata, tanti imprenditori ci contattano e mi contattano, oggi con una consapevolezza maggiore, ebbene, anche lì diamogli, dargli alcune agevolazioni, fornigli alcune possibilità di investimenti con magari impatto fiscale agevolato, va nella direzione giusta, ma ha ragione dopo questa botta economica incredibile legata alla crisi post-Covid. Quindi, sicuramente alcune azioni stanno già andando in quelle direzioni, perché il piano industria 4.0 o il piano transizione 4.0, non c'è dubbio che sta andando già in questa direzione. Adesso si tratta di capire bene, anche con gli effetti di questa pandemia sul tessuto economico produttivo italiano, si tratta di capire come andarlo ad adattare, comandarlo a potenziale, perché sia realmente un agevolatore, non solo della ripresa, ma di una ripresa intelligente, di una ripresa basata sull'innovazione, basata su un utilizzo più approfondito, critico e sapiente del digitale. Secondo livello, e quindi questa è un'azione politica intelligente a supporto dell'impresa. Secondo livello, invece, parlo invece agli imprenditori, parlo invece ai vertici aziendali, e alle stesse interlocutori che per appunto più di 20 anni, e mi metto il cappello di chi è appunto affondato gli osservatori di Digital Innovation nel 1999, nel 1999 al Politecnico di Milano, che più di 20 anni sono stati ben poco sensibili a questi elementi. Allora, anche qui non c'è dubbio, non c'è dubbio che la sensibilità è fortemente aumentata, non solo in chi l'aveva molto bassa, no? Qualcuno mi dice, eh vabbè, ma come se la trasformazione digitale fosse la Zoom Economy, fosse questi eventi digitali, no? Fosse un po' di piattaforme di collaboration utilizzasse i suoi luoghi. Invece sì, 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 perché comunque anche attraverso queste, diciamo, messaggi più diretti a chi la cultura ce l'ha poca, no? Inizia a capire, inizia a capire, magari poi da Zoom, da Zoom in generale, scusate, da qualunque piattaforma di Digital Meeting, poi si passa a capire un pochino meglio appunto il concetto di cloud, eccetera. Ma anche alle imprese che avevano già fatto qualcosa, quelle imprese che in realtà avevano già investito in trasformazione digitale, questa situazione incredibile, improvvisa, a questo forzato lockdown, a questo completo smart o remote working, chiamatelo come volete, ha fatto capire che si può fare di più. La cosa bella è che quindi anche le imprese più sensibili, già più avanti, ha fatto capire che si può fare di più. Quindi possiamo andare oltre. Allora, non posso chiudere con un elemento di natura positiva, ripeto. È un momento incredibile, è un momento incredibile perché ci sono, si stanno distruggendo le due componenti, scettolando le due componenti inerziali più forti degli ultimi vent'anni. Quella culturale, quella culturale e quella forse anche economica, finanziaria, e sebbene agevolata da interventi fiscali intelligenti, penso che quello che non è accaduto per vent'anni possa accadere nei prossimi cinque. Grazie a tutti.